È tempo di indossare la tua nuova borsa, ma ti accorgi solo ora che non vuoi portarla a tracolla? Nessun problema, ecco la soluzione. Alviero Martini prima classe ha pensato ad una comoda tracolla di nastro personalizzato. Da un lato è stampata l'iconica mappa geografica e dall'altro il logo stilizzato. Si regola in lunghezza con un semplice gesto e si adatta a qualsiasi borsa. Cosa ne pensi? Bellissima, vero? Voilà! Borsa a tracolla pronta!